Il termovalorizzatore di Torino si mette in mostra. Prende il via il progetto Scuole dell'Iren, una campagna che coinvolgerà bambini e ragazzi delle scuole per far conoscere il ruolo dell'impianto del gerbido all'interno del ciclo integrato dei rifiuti. Tutto il tema ambientale è un tema sul quale si può fare un vero progetto di innovazione sociale, che parte da una domanda, da una domanda di tipo di bisogno sociale, per esempio le tematiche connesse all'ambiente, e queste vengono risolte attraverso tecnologia, formazione, cultura. Per questo che io non amo parlare solo di innovazione tecnologica, in realtà il cambio radicale lo si ha se ci sono altre componenti, certamente una centrale è quella della formazione. Il progetto Scuole rientra nella più ampia campagna di comunicazione di TRM, la società di gestione del termovalorizzatore, che consentirà ai cittadini di conoscere e far conoscere l'impianto. Attraverso una puntuale comunicazione, ma anche frequentazione, nel luogo in cui la gente poi vede crescere questo mostro, dal punto di vista anche dell'impatto, perché la gente più conosce, più può interagire con chi realizza l'impianto, più attenua le giuste preoccupazioni che tutti noi abbiamo. Chissà cosa ci costruiscono sotto casa, no? Quindi comunicazione, informazione, relazioni col territorio, partecipazione, direi che è più fondamentale del piano economico-finanziario. Il progetto Scuole prevede percorsi dedicati ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado per offrire una visita all'impianto di termovalorizzazione con un approccio adatto ai piccoli visitatori. Un progetto nel quale i bambini imparano a conoscere il ruolo del termovalorizzatore all'interno del ciclo dei rifiuti e il suo funzionamento. È un progetto focalizzato sulle scuole primarie e secondarie essenzialmente e che tra l'altro non prende come spunto solamente l'inceneritore o il termovalorizzatore, ma guarda l'intero ciclo dei rifiuti, quindi inserisce l'impianto in un contesto più ampio, quindi è il ciclo integrato e l'inceneritore è un tassello, è un elemento importante, ma non solo tassello, per quello che riguarda la gestione integrata di tutti i rifiuti prodotti. E infatti il percorso educativo parte dalla raccolta differenziata, da una scelta consapevole dei prodotti e della gestione dei rifiuti per arrivare nel portare nell'inceneritore la quota che non può essere recuperata. Quindi si ha una visione complessiva del problema e inquadrando l'impianto in questa visione complessiva.